Il cavo arancione va da questa parte. Questo si mette qui. E beccatevi questo! Quindi, beccatevi questo significa tappatevi le orecchie. Sei esilarante, Cindy, avresti dovuto fare la comica invece della mega rompiscatole. Oh, si sta facendo tardi. A quanto pare il tuo meritino perfetto non verrà in tuo soccorso. Guardate chi è arrivato! Il mio eroe! Dai, fa presto, mettiamoci al lavoro. Ehi, che stai facendo? Carlos! Eh, Gabriele? Carlos, non puoi stare qui in questo stato, devi andare. No, 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 ti aiuto, va bene. No, ti prego, devi andare qui. No, voglio aiutarti, va bene, ti aiuto. No, tesoro, devi andare via, ti prego. Aspetta, aspetta. Rachel, occupati della parte audio. Melissa, Megan, voi tirate fuori il cibo. Melissa, adesso. Ci pensiamo noi, Gabriele. Tranquilla. Non so che cosa dire. Occupati di tuo marito. Vai adesso.